Il principe Davide Sesto classificato Andate a fondo palco, grazie Fondo palco, grazie Sesto classificato Categoria Belfisic, sotto peso 74 E il numero 2, Scamaccia Vito Quinto classificato Il numero 17, Ludovico Silvio Quarto classificato Il numero 11, Rinaldi Paolo Terzo classificato Il numero 19, Principe Davide Secondo classificato Il numero 10, Cerini Gianni Campione italiano Belfisic, sotto peso 3, il numero 8 Nocirino Antonio Bravo 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 Avvicinatevi Grazie